La piantaggine lanciolata si chiama così perché presenta queste foglie lunghe, dritte, a forma lanciolata, solitamente glabre ma anche pelose. Le foglie sono percorse da 5 nervature parallele che sono più evidenti nella parte posteriore della foglia, se la giriamo vedete. Proprio per questo nel linguaggio comune la pianta è definita 5 righe, che siano 5 o più le foglie sono coriace al tatto. Nel mondo contadino le foglie venivano usate come cerotto d'emergenza in caso di piccole ferite per le proprietà cicatrizzanti della pianta, oltre a servire per realizzare uno sciroppo per la tosse e per le vie respiratorie.